Lo stroke è la causa più importante di disabilità acquisita nell'adulto. La riabilitazione è estremamente importante. Ci si è trovati in questi giorni per confrontare esperienze in Italia e esperienze in Israele per capire qual è il percorso reale del paziente dal pronto soccorso alla dimissione dal centro di riabilitazione al domicilio. Tutto questo per avere una visione precisa e chiara dell'entità dei problemi che stiamo affrontando, poter avere dati che siano certi rispetto all'andamento clinico, verificare l'efficacia e l'efficienza delle cure. Questi sono dati che non sono presenti ancora in modo sistematico che se presenti potrebbero decisamente incrementare la nostra capacità di cura. Confrontare esperienze internazionali è fondamentale.